Ciao a tutti, stiamo realizzando un film documentario per raccontarvi la fabbrica Exilva, gestita dallo Stato e dal privato Arcelor Mittal. Vogliamo farlo come mai nessuno ha fatto, raccontandola da dentro, con il racconto degli operai e dei cittadini di Taranto, mostrandovi immagini che mai nessuno vi ha fatto vedere e per raccontarvi cose che mai nessuno vi ha detto. Per realizzare questo film abbiamo bisogno del vostro sostegno, inoltre anche per sostenere i costi digitali del nostro server per il nostro sito web, per la nostra radio e anche per sostenere i costi legali, per pagarci gli avvocati perché Arcelor Mittal c'ha già pure lato. Questo non è soltanto un film, è la voce inascoltata dei cittadini di Taranto e dei operai della fabbrica e sostenere la loro voce è l'unico atto civile che ci resta da fare, per sostenerla in un mare di silenzio. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!